Io li ho invitati soprattutto a continuare a considerarsi in una rete che li avvolge per meglio servire il bene comune. Questo è il messaggio diffuso oggi dal prefetto Salvatore Pasquariello durante l'incontro con gli otto sindaci neoeletti della provincia di Sondrio. Attorno al tavolo, a Palazzo del Governo, i primi cittadini di Cercino, Civo, Madesimo, Mazzo di Valtellina, Novate Mezzola, San Giacomo Filippo, Spriana e Talamona. Amministratore di lungo corso a fianco di chi per la prima volta indossa la fascia tricolore. All'indomani delle elezioni io ho già scritto a ciascun sindaco congratulandomi per il successo conseguito nelle urne e dando la mia disponibilità ad un incontro per acquisire da loro le problematiche più emergenti e per eventualmente affrontarle insieme. Non sentitevi soli ha rimarcato il prefetto. Il sindaco in effetti è in prima linea ogni giorno. Lui è il riferimento più vicino per i cittadini, per l'ordine dell'amministrazione, così come per la gestione di situazioni complesse, basti pensare ai dissesti idrogeologici o all'erogazione di servizi in condizioni straordinarie come la pandemia che purtroppo ci accompagna dalla scorsa primavera. L'incontro convocato dal prefetto con tutta probabilità non ha precedenti nella storia provinciale. Sindaci convocati per trasmettere loro la vicinanza da istituzioni, proprio nel momento in cui inizia il loro mandato. Ho pensato di salutarli contemporaneamente ed è stata una buona idea perché ognuno di loro ha colto quelle che sono le problematiche di interesse comune e così abbiamo avviato un dialogo. È stata un'iniziativa che ha riscosso un apprezzamento e di questo sono contento.